Questo è uno di quei dolci che riscalda i pomeriggi d'inverno. Ho fatto sciogliere il burro con il cioccolato fondente nel forno a microonde e nel frattempo ho rivestito di pirottini con il burro e il cacao amaro. Una volta sciolti cioccolato e burro, ho aggiunto lo zucchero e un uovo alla volta gradatamente, mescolando sempre con una frusta. E continuando a mescolare, ho inserito infine la farina setacciata un po' alla volta. Ho suddiviso l'impasto per tutti i pirottini aiutandomi con un bicchiere dosatore e li ho coperti con carta stagnola e riposti in congelatore. Trascorse le ore in congelatore ho ripreso i tortini che a me servivano e li ho cotti in friggitrice ad aria a 170 gradi per 15 minuti. Potrete lasciare i tortini rimasti in congelatore per altre occasioni e cuocerli all'occorrenza ogni volta che avrete desiderato di una coccola. Ciao ciao! Ciao ciao!